Sapete cos'è che mi fa veramente girare le scatole sulla sconfitta ieri? Oltre al fatto l'abbè perso chiaramente Il fatto è che abbiamo preso 3 gol su palla nativa E abbiamo rischiato di prendere altri Sempre e soprattutto su altre palle native Io per amore di Dio non sto dicendo che se la Sardinità non avessi fatto gol così Probabilmente saremmo a parlare di una vittoria o boh forse di impariggere voi No assolutamente Però se permettetemi di far girare le scatole Perché non ci sta Però posso accettare magari di prendere un gol su caccia d'angolo Un gol su punizione soprattutto Ma non rischiare di in sequenza prendere gol Sempre su queste palle inattive Cazzo ma Cerchiamo durante la partita di risolvere l'Osa Ma poi dici sai Lì effettivamente Dio la Sardinità ne erano in 200 Dio in 3 D'altronde erano in maggioranza Quindi era probabile che ne venisse fuori fuori in go Erano in 20 Cioè noi dei livelli saremmo in 20 in quell'area E ugualmente l'hanno presa via l'art Ma ragazzi ma veramente O con le lights o se avete l'opportunità di guardare la partita Adesso ve lo ricordate Andatevi a vedere Ad ogni Calcio d'angolo soprattutto Insomma Palla inattiva Della Serenitana Noi abbiamo sempre sofferto Di vesti Con occasioni Tre vortici hanno fatto gol E' una cosa clamorosa E allora se mi fa girare più le scatole Perché Per come l'ho vista io Ora vi sto dicendo uno sfondone a Benorme Preparatevi Secondo me No che Quindi voi non ha giocato meglio O ha giocato il pari della Serenitana Sì Se doveva meritare Una delle due squadre Chiaramente era più giusto E meritato alla Serenitana Soprattutto per un discorso di occasioni create Ma se si va a vedere Da punto di vista Del 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 palleggio Perché anche lì Livorno Ha giocato peggio La Serenitana Però Se si va a vedere In tutto Se si leva le palle inattive Che comunque fanno parte di Joe E come vedete poi Hanno decretato la sconfitta E la vittoria La Serenitana Sconfitta e Livorno La vittoria La Serenitana Cioè non c'è stata La grande differenza Cioè c'è stata Ma non è stata Abissale E lo sfondante Sto per dire Che secondo me Probabilmente O se Il Dio Livorno Avesse Avuto Le giuste attenzioni Su queste magiche Che mai sono inattive Magiche Palle inattive O Pareggiavamo Siondo me Perché alla fine La Serenitana In altre occasioni Si fosse avuto due occasioni Senza Palle inattive Non è che poi E' stata presa Paranata e Livorno Io Soprattutto a livello Di Sai Azioni create Magari Arrivano in porta Poi La buttavamo fuori di Po O mazzoni Facciamo in mirare O no Tutte le occasioni O perlomeno Il 90% L'occasione che ha avuto La Serenitana La ha avuto Su queste panne inattive Soprattutto sul caccia Inangolo Quindi O La pereggiavamo O se proprio Vieneva a perderla E alla fine Si La sostanza non cambia Perché alla fine Zero punti L'avevamo fatto ugualmente Però magari Uscivamo con un risultato Meno ampio E se non è Meno Brutto O se proprio L'avevamo a perdere Perdeva 1-0 O comunque Di un gol Perché veramente Se si va a vedere Non è che la Serenitana Abbiamo fatto La super mega partita E Livorno Abbiamo giocato male Si Livorno Affettivamente ha giocato male Ma non così tanto Da 3-1 Perché 3-1 Se non è Abbastanza tosto Non so Prendi 3 gol Anche se poi ne fai uno Però se prendi 3 gol Se non è abbastanza Grossa Come cosa Perché Va bene perdi Ma 3 gol Sono veramente tanti E a proposito Di gol presi Quindi mi riferisco Alla difesa Mi voglio relacciare La partita precedente Allora E se mi subito Il discorso Si Si mi va a fare Le cose un po' Più coordinate Io Sono d'accordo Che È giusto C'è Una rosa Abbastanza ampia È giusto Se possibile Quando Magari È possibile Perché se è possibile È possibile A livello di formazione È giusto Che magari Uno dia spazio A Tutta la rosa O comunque Gran parte della rosa È anche vero Che esistono Turni fra settimanali Che magari poi Ti possono un po' Condizionare a livello fisico Che è giusto Che è giusto Gennare un po' Le cose Ma Perché L'altra volta Contro l'ascoli La città che sono squadre diverse Però Non c'è tanta differenza In serie B Fra le squadre C'è quella Che vedi probabilmente Andando in serie A Però poi Sono me Cioè Non è da qui a qui La differenza È da qui a qui Più o meno La serie B Va avanti Chi Picchia Calcisticamente Di più Comunque Questa è una cosa mia Perché Contro l'ascoli Hai visto Hai messo Il campo in difesa Che ti ha retto Bene A parer mio O quasi bene E con te La sentita Ne metti un altro Ora Io Sto parlando sì E sinceramente Da lì faccio anche La figuretta Perché non so Se magari uno Si è fatto male Si è squalificato O altro Magari poi in realtà Dove la mettere In forzata di pesa Però Se così Non fossi C'è un gas bar C'hai un Dainelli Che è vero Quando si tratta Di velocità C'ha le sue pecche E nonostante L'esperienza Però l'età Si fa sentire Perché Tanto anche lui Le fa le cavolate Perché È arrivato Beckenbauer Ma Perché Mi rigioi Con una difesa Diversa E patisci Come un cane Pramo a dire C'è anche il discorso Poi di Centrocampo Di attacco Però Sai Per come la vedo Io Se sapete Se andate a vederlo Io Se dovessi scegliere Una difesa Straforte Piuttosto che Un attacco Straforte Perché Te ci puoi avere Un attacco E ti fa 70 gol Ma se la squadra Avversaria Grazie a una difesa Di merda C'hai Tra la fa 71 Fai 0 punti Te ci puoi avere Un attacco Di merda Fai 0 gol Però c'è una difesa Che ti fa prendere 0 gol Fai un punto Capito Se voglio dire Quindi Ma perché Devi fare questi cambi Questi cambi Totalmente Di formazione E sono d'accordo Sul turn 9 Ma assenzato Più che altro Guardiamo la situazione In cui siamo E secondo me Non ne abbiamo Tempo E possibilità Di fare Tutto questo turn 9 Cambio 1 Barra 2 giocatori Va bene Ma non metà squadra Perché Secondo me Non l'ho contato Ma minimo 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 2 quinti Guarda Proprio Nemmeno Un terzo 2 quinti Di squadra Era diversa Dalla quella D'altra volta Va bene Fare il turn 9 Ma quando c'è La possibilità O quantomeno Magari Fallo a partita In corso Fa partire Quella l'altra volta Poi si sostanca Anche le cambi Per dire Forse l'ultima Sottotitura Non è tanto sensata Però Vabbè Spero che comunque Vi sia arrivato Il messaggio Che volevo dire Ieri Anche per questa Siavission Questa Siavission Mi ha condizionato La partita Quindi Ci tenevo a dire Questa mia opinione Soprattutto Sulla difesa E sul turn 9 Insomma Maria della favola Detto tutto Partita Come sempre Prima seno tempo Divisione È stata giocata Poi è stata giocata Proprio meno Sulla stessi ritmi Come sempre Poi calano un po' Con la stanchezza Però Non c'è Non c'è stato Un calo drastico Anzi Forse Sono tempo Ma forse Livorno Sono aggiunto Anche un po' Peggio Rispetto Al primo tempo Perché al primo tempo Qualcosina provavi A creare Poi non veniva a fare niente Però qualcosina provavi In solo tempo Forse dopo il secondo gol Hai provato Un po' A riequilibrare la partita Sei riuscito Fra l'altro Con carcia d'angolo A fare il gol Però Per te velo Poi niente Non è che Dal punto di vista Offensivo Abbiamo fatto Durante la partita Chissà cosa E quindi Il risultato Non è poi così Bujain Ecco Insomma Detto questo Niente È andata male Si sperava tutti Che dopo la partita Precedente Ci potessi essere Soprattutto a livello mentale Un cambio Di direzione Non sto dicendo Che la squadra Non ci abbia provato Però il problema È che Ha fatto vedere Che la squadra Che si Che il complesso Ha purtroppo per noi Dei limiti Soprattutto se gioca Cioè Se gioca in quel modo Con quella formazione lì Per il mio E Niente Questo è quanto Adesso Per finire il tutto Si sono cambiato Sono sbrigati Io ho visto Che sono quasi 10 minuti di video Come sempre E Ci aspetta il Perugia In casa nostra Domenica alle 21 Se non erro Controllate Se non siete sicuri O non vi fidate E Niente Guardiamo Come andranno le cose Giocando in casa Perché a me Magari Vincere In casa E poi perdere fuori Ta 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 Mi potrebbe Eh Anche andare bene Per una Per una Poi Poi quando le cose Si faranno ancora più serie Sperando Non ce ne sia bisogno Ma la vedo bigia Casa e fuori asia Non vincere tutte Oddio Già da ore Vincere tutte Come non detto Niente Vediamo un po' Come andranno le cose Credo di vedere la partita Credo di conseguenza Di portare il commento Se entro due giorni Niasce il commento Vuol dire che non ho visto La partita O comunque Non ho visto La quantità Di partita Giusta Necessaria Per Poter fare Secondo me Un video commento Detto questo Niente Ci vediamo E purtroppo è andato così Peccato Ci si sperava Però È andato così Via Ciao a tutti 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 Ciao a tutti